La pace va costruita non con i sospiri e la solidarietà ma creando azioni diplomatiche, equilibri di potere e alleanza. A dichiararlo questa mattina è stato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo sul conflitto ucraino a margine dell'inaugurazione al liceo Sabatini Menna di Salerno dell'opera di Jorit PIS che invoca la pace e la convivenza civile tra i popoli realizzata su una parete di grandi dimensioni del plesso di via Pietro D'Acerno del liceo salernitano. Una colomba che toglie la A dalla parola war e la trascina verso la parola PIS con un grande occhio che guarda al mondo e il messaggio di pace che lo street artist ha voluto imprimere sulle pareti dell'edificio scolastico attraverso il progetto Right Between the Eyes che ha coinvolto la scuola salernitana così come altri plessi della regione Campania. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza del governatore della regione Campania che si è soffermato con i giornalisti a commentare l'attuale situazione di crisi geopolitica ma anche l'aumento dei contagi chiedendo a tutti i cittadini prudenza e pazienza. Gli ultimi giorni sta maturando in Ucraina un dialogo fra ucraini e russi si sta avviando una trattativa faticosa. La strada è questa. Favorire tutti i momenti di dialogo e poi alla fine credo che l'Europa dovrà pensare a un grande progetto per tenere Russia e Ucraina dentro l'Europa perché sono parte essenziale della storia, della cultura, dell'umanità dell'Europa. Insomma vorrei evitare di regalare la Russia alla Cina, tanto per essere chiari. Ecco, allora oggi la priorità è il cessare del fuoco. Oggi deve cessare questo bagno di sangue. Ho visto che il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non intende più aderire all'Alleanza Atlantica, alla NATO. Bene, bene, questa è la strada per arrivare alla pace. Presidente, ancora una volta ci aveva visto giusto sull'aumento dei contagi. Noi abbiamo tenuto la mascherina, sono risaliti in Campania così come in tutta Italia. Noi siamo un paese strano nel quale dire le cose giuste, serie, è sempre difficile. È sempre più facile dire liberi tutti, è cominciata la ricreazione. Vorremmo tutti quanti andare in giro per l'Italia, per il mondo, fare quello che ci piace. Il nostro obiettivo è sempre quello, aprire tutto, aprire le attività economiche, la vita culturale, ma aprire per sempre. Non aprire e poi chiudere fra due mesi. Allora, dobbiamo avere ancora un elemento di prudenza, perché è da una settimana che stanno aumentando i numeri delle occupazioni nelle terapie intensive e anche i numeri dei ricoveri. E quindi, perlomeno, l'uso della mascherina deve essere continuo. È un piccolo sacrificio, ma è un elemento prezioso di prevenzione al quale non dobbiamo rinunciare. Sollecitato dai giornalisti, Vincenzo De Luca ha commentato anche le attuali difficoltà che si stanno registrando per promuovere i progetti del PNRR. Il governo ha sbagliato scegliendo la strada della centralizzazione per il governatore della campagna. Centralizzazione che funzionerà solo per grandi realtà come Ferrovie dello Stato ed Anas. Per De Luca, però, il piano va rivisto anche alla luce del conflitto. Sapevamo che c'era un problema difficile da risolvere per le progettazioni, quindi abbiamo almeno quattro grandi studi di progettazione che sono in grado di fare le progettazioni. Poi, per la verità, abbiamo tutto un blocco di progetti esecutivi che erano partiti già da mesi. Partiremo sicuramente quest'estate con i lavori del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, con il palazzetto Ello Sport, con il completamento e il ripascimento del litorale. Quindi approfitteremo per valorizzare le cose che erano già in cantiere.